Sono pochi i dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che ha raso al suolo il bar Punto Fisso di Nardò. Le fiamme si sono sprigionate alle 3 della notte in Viale Magna Grecia, all'interno della stazione di rifornimento Doli, dove assiede la caffetteria di proprietà di un trentenne del posto. Il roga ha praticamente distrutto l'intera struttura, composta in parte da elementi in legno e alluminio, insieme a tavoli e sedie. Il danno è ingente, anche se ancora in fase di quantificazione. L'immediato intervento dei vigili del fuoco è stato comunque fondamentale per evitare che l'incendio si propagasse agli edifici circostanti, limitando così ulteriori danni alle strutture vicine e garantendo la sicurezza dell'aria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato della polizia locale di Nardò per avviare tutti gli accertamenti. Ma come dicevamo, sono pochi i dubbi sulla natura dolosa dell'accaduto. Da una prima ricostruzione, il rogo dovrebbe essere stato con ogni probabilità piccato da qualcuno. Ma ora saranno le videocamere di sorveglianza individuate nella zona a confermarlo o meno. Intanto, nelle prossime ore, sarà anche ascoltato dagli agenti il proprietario della struttura.